benvenuto nel bazar atomico un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti mistici scienziati imprenditori eroici maghi filosofi esploratori e artisti uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti indipendentemente dal numero di followers che hanno io sono davide francesco sada sono l'autore della bestseller la felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria money surfers la mia vita è sempre sembrata un bazar ho provato di tutto sono stato un wannabe rock star un giornalista un regista e persino un rampante marketing manager e nonostante mi sia sempre impegnato a fondo i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi caduto in depressione iniziai a divorare libri di self help un sacco di fuffa ma poi un giorno in uno di questi lessi una frase di jim ron frase che cambiò la mia vita per sempre non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso fu come un'esplosione atomica nella mia vita non accadeva nulla perché per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria per questo ho creato il bazar atomico un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo buone deflagrazioni ospite di oggi è tony thorinbert nato nel 1957 è uno dei fotografi di moda e di ritratto più influenti del panorama italiano i suoi scatti sono finiti sulle maggiori riviste di settore come rolling stone vog e details ed oggi anche formatore e founder della scuola thorinbert raggiungibile al sito www scuola thorinbert.com dove sulla home page campeggia una scritta interessantissima la seguente io non insegno fotografia uso la fotografia per promuovere l'unica vera necessità di ogni artista accettare se stesso prima di iniziare come al solito ti ricordo che il bazar atomico è prodotto dall'azienda di formazione finanziaria consapevole money surfers dove dal 2010 insieme ad enrico garzotto insegno la felicità che fa i soldi ebbene sì invertendo i fattori il risultato fidati cambia moltissimo ti ricordo anche che la regia è curata da giovanni valentini videomaker raggiungibile su giovanni meno valentini punto com che il nostro web wizard in studio è mario piccaluga fotografo raggiungibile su instagram chiocciola mario piccaluga e che studio vediamo solo caffè carnera e mi raccomando ragazzi se volete supportare questo podcast dovete fare solo una cosa iscrivetevi su tutte le piattaforme attraverso le quali lo ascoltate adesso però rilassati e goditi lo show bentornato toni e visto che ci siamo lasciati con questa preview con questo trailer con questo cliffhanger con questo cliffhanger grazie riguardo la seconda parte lascio la parola al mio noi lo chiamiamo mago web perché lui lì mario piccaluga è uno dei miei migliori amici loro due sono i miei migliori amici e voleva dirti una cosa no allora io prima ho detto dopo ti faccio vedere le mie foto sembra una battuta io in realtà mi occupo di fotografia e tu devi sapere che da 25 anni sei un'eminenza grigia nella mia esistenza perché io ho fatto due scuole di fotografia la prima nel 98 a perugia il mio insegnante era marco biaggiotti ma non ci credo e tutte le sante lezioni lui ci parlava di te certo cioè io so gli aneddoti di quando siete andati a fare le foto a mala grotta per dire con lui poi enfatico alla grande uno storitello grande assistente non so che fine ha fatto ma io non lo vedo da vent'anni no no l'ho visto recentemente a perugia dove lui sta bene con una grande barba a quattro figli e diversi ho perso il conto ok la nota io ne ho due quindi non è che cioè anch'io ho contributo non ho contribuito a ripopolare il pianeta almeno io vado a pari però noi infatti lui invece replacement rate eh no sempre sempre biaggiotti biaggiotti è stato devo dire una più grandi assistenti che ho avuto era bello tosto molto intraprendente e non si perdeva d'animo davanti a nulla ma non finisce qui no infatti questo è solo questo è l'antipasto le persone non sanno chi è infatti poi sono venuto a milano ho fatto lo ied finito lo ied allo ied dalla segreteria manda qualcuno manda un cercava assistenti e io sono andato a lavorare ci ho lavorato per quattro anni ma proprio a stretto contatto con cristina nuñez e quindi tu eri sempre lì dicio non si può dire è stata la tua ex moglie prima la mia prima ex moglie e quindi tu eri sempre la a un a un grado di separazione sono diventato amico di capiglia separazione è la parola giusta sono andato anche in vacanza sì cioè quindi tu sei sempre stato là avevi iniziato meglio però purtroppo io non l'ho fatto apposta cioè ho fatto stalking involontario anche cioè tu sei qui perché l'idea è stata sua anche mia ok ma certo che dobbiamo invitare torinbert così finalmente e adesso allora la questione è questa secondo me è molto interessante per noi se non te ne frega un cazzo ce lo puoi dire tanto qua possiamo cambiare possiamo parlare di tutto però sicuramente interessante c'è un mondo tra l'altro sai che il video più virale che abbiamo fatto tratto da questo podcast tratta l'argomento only fans cioè le ragazze che mettono le foto le vendono eccetera e un milione virgola quanto siamo arrivati parlo con gabriele nostro assistente della redazione 1,3 milioni di views con un ospite che salutiamo che parodi che chi è parodi è un nostro guru diciamo è un vivero è un viaggiatore viaggiatore giornalista lo conosci non bene ma lo conosco e vabbè a lui ha una posizione particolarmente ferma eccetera però al netto di questo non vogliamo parlare di questo vogliamo parlare del fatto che lui non so si è trovato nella vita a un certo punto a sentire l'esigenza la spinta a ballieri no di fotografare le donne potenzialmente sempre più in realtà io la spinta ce l'avevo già da quando avevo studiato con marco biaggiotti poi però ho subito un trauma legato alla fotografia di tipo giudiziario e io per vent'anni non ho fatto foto ho lavorato come ritoccatore delle foto degli altri ok aspetta però adesso cioè secondo me è interessante il discorso legato a questo mondo cioè visto che le immagini che fanno parte di quella piattaforma stanno dando da mangiare a un sacco di persone delle ragazze che vivono di quello ragazze fotografi esatto e anche se ho capito bene tanto vero che io ho avuto un paio di studenti che in realtà per campare fanno foto per only fans ce l'abbiamo qua uno non è vero allora io le metto anche su only fans però avrei ambizioni un pochino più elevate perché insomma esatto e quindi ci ci mandavamo non so se è bene avere ambizioni più elevate in questo senso perché quello è fatto cioè lui bisogna stare molto attenti perché le varie le proprie ambizioni adesso sarebbe un discorso complicato ma noi piacciono la questione dell'ambizione cioè di travalicare ciò che noi siamo è un rischio secondo me perché rischiamo il mainstream invece io capisco se per esempio io ho un'amica che suona in un gruppo punk un gruppo punk che esisteva poi si è sciolto adesso lo hanno ricosato le bambole di pezza e le conosco suonavo nella ma chi la cantante la no la lisa che sono la lisa la lisa la conosco lei mi conosce la conosce la lisa suonavamo nella sala abbiamo fatto anche dei concerti assieme perché io in una precedente vita ero anche musicista vedi e effettivamente altra sera a cena dicevamo caspita certo che qua il punk bisogna che diventate più pop cioè c'è poco da fare perché eravamo appena stati a un concerto l'8 marzo metà delle canzoni sono inascoltabilmente punk e invece l'altra metà quelle che hanno comunque una qualche melodia adesso lo sto semplificando in un modo orrendo ma almeno ci capiamo insomma ti agganciano e capisci bene che eventualmente nelle radio passeranno quelle ma se non passi in una radio oggi non esisti quindi paradossalmente nell'epoca degli spotify esatto invece radio fa tantissimo allora insomma si parlava un pochino di questo è il fatto che in una qualche maniera tu devi diventare più mainstream devi essere più accessibile o accettabile diciamo il tuo messaggio deve arrivare a un più largo gruppo di persone se tu come fanno loro canto non hai rotto il cazzo già in radio non andrai mai più è finito cioè tu hai chiuso quindi praticamente risulterai avrai quei tuoi 3000 seguaci buona ciao però ci campi poco no nel senso che però credo che dovresti parlarne tu no sull'ambizione tu sei più ambizioso c'è ambizione perché l'estetica di only fans è fatta essenzialmente di soft porno che non ha un'ambizione di nessun artistico di nessun tipo è pura esposizione prosegaiola anche sì cioè a me piacerebbe fare un connubio a me piacerebbe creare un'immagine che volendo ti fai anche la sega cioè non c'è nessun problema anzi però ci deve essere per me un qualcosa di più quella immagine deve avere anche un qualche una una firma una voglio dire addirittura una riconoscibilità dice beh questo è l'occhio di piccaluga si vede bella questa foto mi arrapa però qui c'è anche l'occhio di piccaluga e questo me lo fa arrapare un po' meno senza arrivare a questa battuta a me mi viene da dire questo cioè nel senso che la fotografia ha bisogno di una grande onestà intellettuale dentro quello che tu fai per essere recepita per quello che è ok quindi io amo l'onestà intellettuale del fotografo di only fans che non ambisce a nessuna artisticità ma solo come dire in un certo senso io guarda sono andato a budapest a prana a cena una sera con come si chiamava lui poverino è morto il grande impresario che porno si è morto ed è stato uno dei più è stato un incontro straordinario perché lui aveva proprio la passione per questo mondo per questa estetica e questo mi ha veramente cambiato la percezione perché io ero ancora rimasto al mood newton capito è il mood newton lui avrebbe voluto molto andare nel mondo della pornografia e qual è sicuramente qualche volta c'è andato ma la moglie che guardava i conti stava e anche guardava giustamente come al director diciamo di helmut ne guardava ne preservava la sua signature glielo ha sempre impedito perché aveva lì vale il discorso alla rovescia perché gli ha detto tu devi rasentare il porno se finisci nel porno non funzionerà se tu invece sei felice con only fans non non andare di là perché secondo me la cosa interessante essere molto autentici non so se riesco a spiegarmi perché non è sì no 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 sei chiarissimi bellissimo tutto ma infatti cioè io non sono mai partito da only fans io sono partito da una mia ricerca sulla sulla vulnerabilità della donna che si dà al al fotografo cioè al fotografo alla fotografia si dà ti concede un qualcosa che tu catturi è molto erotica la donna è molto seducente ma è anche lì inerme beh allora diciamo scusami tu conoscerai il lavoro di belmer ragazzi io sarei felice io sarei felice di essere non è che ti ho portato io sarei felice di essere il david belmer dei poveri come la via di david belmer in italia sì sì tanto quello è molto francese questa estetica ma quello che soprattutto interessa david belmer è uno straordinario fotografo che adesso è diventato uno straordinario confezionatore perché lui io vidi delle sue prime foto e vedi su marie clare italiano lui è stato il suo primo cliente importante è stato marie clare italiano vedo ste foto con le donne a capovolte dico ma chi è questo david belmer mai sentito straordinario a quindi c'aveva una donna ma certo ma io adesso non ha più non che non ce l'abbia lui adesso che rendi conto era più sperimentale sotto padrone che in autonomia perché adesso lo diciamo per chi non lo sa è giusto perché se qua parliamo sembra che tutto anche perché non è ricordiamo diversamente no se apriamo la porta è un fotografo francese tra l'altro molto figo come te nel senso che evidentemente fare il fotografo ti conserva figo fino a non so come mai un trucco che ha fotografato per le più importanti testate di moda e che adesso però un sito internet che è famoso in tutto il mondo all'interno del quale vende una sorta di review di fanzine magazine bello bello spesso che si può comprare sotto abbonamento con subscription e quindi è diventato diciamo il proprio imprenditore che adesso si è dato alla quantità perché ogni numero sono 500 immagini cioè come fai a rimanere tra l'altro è la membership è abbastanza cara esatto cioè non è qualcosa che ti puoi permettere così tanto per ma questo noi noi i francesi diciamo io per esempio lavorai per il lui francese che era il playboy francese e loro hanno come dire una grande scuola di questa fotografia erotica ben molto meglio confezionata che quella americana perché il playboy americano per quanto sia americano ok quindi la plastica si è molto plasticoso le donne hanno rispettano degli standard più artificiali diciamo per quanto le le tette delle americane in generale a me piacciono un casino anche quelle degusti ci sono delle questioni proprio anatomiche hanno queste tette che sono rotonde grosse ma guarda che sono rifatte molto per esempio quella di boi yuk hazard che tette c'aveva non c'era ancora il silicone o jamie lee curtis ragazzi solo in america ci sono quelle tette lì alla francese se sei più raffinato io sono un po più perché lo seguo notavo recentemente per esempio che belmer sta variando molto ed è questo estremamente europeo nel nel pensiero sta variando molto il tipo di femminilità in parte perché anche lui deve seguire come dire una specie di inclusività di razza ma anche di misure di tutto no quindi un po più rotonde molto magre poco seno tanto seno diciamo che e soprattutto il discorso che tu facevi somiglia estremamente a quello che lui scrive sotto queste foto che è sempre a metà tra l'apologis come dire nel senso cioè vi spiego perché queste foto hanno un senso e lo spiega cercando di essere politicamente diciamo corretto nel senso che lui racconta proprio questo della vulnerabilità della donna che si riappropria della sua bellezza attraverso la fotografia per epe per epe e io sorrido e vado oltre solo ma non perché non saprei neanche dirti sono d'accordo o no o se non diciamo a me per esempio un tipo di fotografia che interessa poco mentre da un punto di vista critico sono molto più interessato e trovo molto più nuovo innovativo la fotografia pseudo simil pornografica di only fans per quanto la frequenterei meno volentieri ancora in quanto non me ne frega niente però da un punto di vista di linguaggio quello di belmer è vecchio come il cucco ma è una cosa superatissima cioè è una cosa come dire consolatoria per l'uomo capito quindi è è proprio una fantasia consolatoria io ho conosciuto una ragazza che vorrebbe aprire ogni fans e che anche appassionata di fotografia tra l'altro e gli ho parlato di lui e lei mi fa no ma secondo me ogni fans te le devi fare da solo le foto perché solo facendole da solo passa quella quel messaggio di ogni fans che non c'è un tramite fra me e te che mi guardi assolutamente ci sta cosa ne pensi ci sta cioè si frappone il fotografo quando quella piattaforma nasce come sì sì certo ci sta ci sta ma diciamo il problema è che magari sai intanto ognuno c'ha le sue idee va bene no cioè magari se vuoi un certo tipo di foto magari da solo diventa più anche complicato certo farle beh per quanto mettendo bottoni così però devi imparare eccetera però poi ci sono anche magari persone che amano farsi fotografare cioè che non solo che ritengono che avere un fotografo le come dire ti tira fuori delle cose che magari da solo stranamente potrebbe sembrare antilogico ma invece può essere no no tu lo potrai dire no chissà quante assolutamente sì ci sono ragazze di only fans che proprio non ti rispondono quando gli scrivi che si vede che loro fanno tutto da sole e poi invece ce ne sono altre che quando tu hai un qualcosa da offrire loro vengono il tuo profilo dicono beh perché non farmi fotografare da questo loro proprio si danno con slancio ed è per loro liberatorio secondo me per tante quasi terapeuti io ho un solo grande regret perché io avevo fotografato la la oxa la oxa aveva un manager che dal quale si separò ad un certo punto perché lui cercava ma adesso è veramente non voglio fare del gossip comunque insomma si separarono lui era un po diciamo dai come si potrebbe dire zuzzurellone e tanto è vero che anni dopo lo ritrovai a una fiera del sesso tipo il miss ex o il boss ex non mi ricordo e lo ritrovai come fidanzato e manager di una porno star che era la venere bianca ok e lui era l'ex diciamo di anna oxa molto simpatico adesso poi non è mancato anche lui è molto simpatico un tipo veramente alla mano simpatico e mi propose di fare la copertina di le ore le ore liete giornale come decisamente pornografia la copertina non lo era però è perché doveva stare in ediqua la copertina era diciamo un playboy un po di bassa lega come come immagini e io cretinamente un po non dico offeso però pensai ma no ma io figurati faccio la copertina di le ore poi in effetti penso che veramente l'unico rammarico che ho di non avere nella nel mio buco una copertina di le ore perché ho fatto tutti cioè mi manca giusto le ore e con la mente sarebbe stato divertente per lo meno e soprattutto come cross culturale diciamo passare da voga le ore dai è un bel è un bel è un bel bazar però a me piace molto la trasversalità io sono super perché è un codice che adesso è accettato anzi è ricercato mentre invece all'interno la purezza no purezza no dovevi essere solo in un modo fare solo le cose tanto è vero che io ancora adesso chissà ma forse adesso meno perché sai sono tre fasi nella vita di un fotografo c'è com'è la promessa aspetta promessa bo poi solido stronzo e venerato male maestro io adesso sono nella terza fase quindi va bene tutto però dovresti andare a fare le foto di only fans no ma aprite una società sì ma io non no ma per carità niente contro però non in questo momento non avrei questo interesse però ritengo che questa roba qua sia estremamente più interessante che belmaier cioè se ritratti stampati uno che con una certa furbizia fa del cash in su un'immagine ben confezionata però irrilevante da un punto di vista fotografico infatti secondo me lui adesso è così conosciuto o almeno insomma almeno nel suo ambito perché più che altro per le donne che riesce a portare in quel in quell'estetica come è giusto che sia come giusto che sia e cioè tutti conoscono la venere bianca mica il nome del suo manager manco io me lo ricordo ma io conoscevo lui però cioè c'è nel senso che sì non lo so i fans giuro non lo frequento sembra che me l'ha detto mio cugino non ce l'ho sul cellulare non mi interessa però c'è su only fans non credo che poi mi smentiranno però il bello di only fans è che c'è la potenziale tua vicina di casa con la con le gambe aperte non la stra mega totale figa che c'è che c'è deve ma io questo mio questo mio allievo che è venuto a fare una lezione di sulla luce venne portandosi una sua carissima amica che alla quale lui fa le foto di only fans che è una ragazza diciamo un po abbondante molto tatuata diciamo ben lontana molto simpatica però ben lontana diciamo da uno stereotipo ecco come come è giusto che sia come forse finalmente invece che diciamo conformarsi a un'idea maschile della bellezza certo adesso insomma ci sono c'è molta più c'è un'apertura diversa su quello che sono diventato bellino persino io vantaggi se ti vuoi fare questa cosa ricordi stampati bellissima aspetta però prima e magari però adesso gli faccio vedere un po di foto mie non ti preoccupate ricordi stampati questa cosa che fate chi siete te oliviero allora l'inventore settimio settimio benedulli si che ha inventato l'acqua calda ma sai l'acqua calda non è male no 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 pensa che nella iurveda la iurveda che tu dici la cura di beviti l'acqua calda la fanguta è così è completamente un'altra cosa che l'acqua fredda cioè non c'è storia quindi ha inventato l'acqua calda e in questo ha coinvolto poi più o meno volontariamente un po di persone sì siamo io c'è l'oliviero c'è guido che il suo socio credo ormai stazioni e l'oliviero io matteo kurti che salutiamo io lo adoro ma se si lavora radio di jazz poi a firenze c'è a roma c'è fabbio lovino insomma diciamo ci sono dei fiancheggiatori poi noi a milano siamo un po e lo zoccolo duro e cosa fate cosa come funziona perché stavo la domanda era per rimanere in tema fareste secondo voi i tuoi colleghi e testa resta d'accordo a fare dei ricordi stampati ma di gente nuda ma guarda siamo noi siamo d'accordo diciamo fare tutto ma conoscendo l'iviero poi ti spiego perché c'è un'altra carambata su l'iviero no allora la questione è questa altro non mi pare che guido forse a un certo punto ha fatto un ritratto che la ragazza sia voluta spogliare non so ma sai questo a me non diciamo non è che mi sembra una cosa diciamo né né bene né male di per sé quello che è noi facciamo fotografie si chiama è un collettivo di fotografi si chiama fotografia popolare anche se qualcuno discute se 250 euro per una fotografia è popolare o no diciamo che magari non è proletario però è popolare e le persone vengono si 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 prenotano su un sito vengono e ricordi stampati punto it sense e non durante tutto tutto l'anno però diciamo sicuramente ottobre novembre dicembre gennaio febbraio siamo aperti in un tempo raricché quest'anno era in costo gai baldi insomma le persone vengono con la famiglia col cane o con la sorella col fidanzato da sole e si fanno un ritratto in bianco e nero ben fatto che viene stampato incorniciato e nel giro di un'ora tu te ne torni a casa con la tua foto e questa operazione sì effettivamente diciamo sicuramente è una cosa molto nuova anche per la dimensione di successo che ha perché all'inizio diciamo ha sempre avuto successo però all'inizio è un successo che ancora noi non capivamo bene e invece adesso è indiscutibilmente di successo e mi ricordo cos'è due anni che c'era cinque anni cinque già sì perché questo è noi come dire abbiamo fatto anche la gavetta di questa roba pre covid ormai tutto pre post covid no è una è un'esperienza umana straordinaria che diciamo per esempio per quello che riguarda me nel lavoro professionale io ho avuto ovviamente dei riconoscimenti e delle soddisfazioni enormi ma raramente ho avuto un riconoscimento emotivo così forte dalle dalle persone che ho fotografato anche perché noi lavoravamo per i giornali quindi c'è una catena di un filtro no per dire per cui se le tue foto andavano bene o no un po non si è mai capito ma mi hanno piaciuto queste foto tra l'altro c'è anche da dire questo c'è una cosa nella fotografia che è inspiegabile quando tu fai un servizio per un giornale e il direttore ti chiama e dice che quello è più bel servizio che abbiano mai pubblicato non ti chiameranno mai più è scientificamente provato perché forse dici ok siccome d'ora in poi non lo chiamo più gli do il contentino e ti guardano ho deciso che non ti chiamo più ma sappi che ti voglio bene no perché in più ti spiego è oggettivamente vero che quel servizio era bellissimo cioè non te lo sta dicendo in occasione di una cosa che ha pubblicato che mediocre te lo dice guarda bellissimo poi non ti chiama più no 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 cioè a me è successo diverse volte e dopo ho capito aia quando dicono così è un po come l'oscar alla carriera no perché lì è chiaro chiudiamola qui guarda chiudiamo in bellezza beh scusa faccio l'avvocato del diavolo ma può essere anche legato al fatto che gradualmente a me quel lavoro è scomparso del tutto quasi no in che senso quello e il fatto che i direttori di giornali sono diventati sempre di meno perché no ma io parlo ai tempi dove i giornali perversavano sì come per esempio c'è un'altra cosa quando tu lavori per un giornale e a un certo punto il direttore ti chiama per fargli la foto quella che va nell'editoriale sai che ogni giornale il ritratto c'è il ritratto il direttore che dice la sua nel settimanale nel mensile e ci vuole questa foto dove il direttore appare diciamo bene e con un'aria assertiva eccetera e lì veramente sai che hai chiuso con quel giornale hai chiuso perché non so perché è la fine della tua carriera in quel giornale quelle regole non scritte ma dice perché lo hai fatto venire male no no non lo hai fatto venire tant'è che la rimette la rimette sì sì la rimette ma tu non lavori più per loro non so perché sono quindi può nascere quasi una cosa di rifiutare certi lavori andrebbe rifiutato no 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 purtroppo guarda è come la foto della lapide sono in costa rica capito se ti chiedono toni faresti la foto perché te lo te lo presentano come un achievement cioè come dire toni abbiamo deciso che tu sei l'unico che può veramente qual era in boris quella lavoro che se te lo davano voleva dire che ti volevano mettere da parte gli volevano far fare una serie che oddio no la serie non mi ricordo quale era voleva dire che ti volevano completamente dai vedi allora dacci dei tu l'hai visto lui su sky è cattivo e quindi mi dice la verità lo so lo so sì 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 allora ci scusiamo per gli amici di spotify però dai dopo un'ora e mezza di solo voce adesso beh ora davide descriverà la patonza dai sì ma volentieri come funziona siccome sono dei nudi noi non li possiamo mandare non censurati allora io ti do il mio ipad su cui sono senza censura tu man mano che le sfogli dovrai dire il numero io ho messo il numerino nell'angolo così io se stesso tempo mando lo stesso pdf ma censurato ok sound good adesso vengo dovremmo fare ti dico solo che questo ha fatto di in tre giorni 800 euro queste foto nel c'è io sono tre anni che le faccio queste foto nelle ultime due settimane forse ho finalmente trovato la quadra per guadagnarci sai come ha fatto e scrive agli iscritti e gliele vende ma io credo che la vendita direttamente al privato è la chiave è quello che quello che fa fatto non essendoci più la ok noi non possiamo vederle qua adesso io sto vedendo la numero uno quante sono 24 così capiamo anche il ritmo allora se dico uno ti dice qualcosa 1 sì 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 ce l'ho nello stesso ordine quindi io vado però sai devo avere un'idea man mano che le sfogli 1 2 noi non vediamo un cazzo giù ah e devi accendere il tv sei l'unico vedo solo l'origine del mondo proprio l'interno del 3 4 o 5 sei sei in sync sì sì 7 bella questa hai scelto le più belle però è un greatest hits degli ultimi tre anni cioè non sono non le ho scelte per similità 9 non c'è un filo vero tra queste foto 10 cazzo voi fotografi siete po' dei bastardi non sono tutte così belle comunque 11 queste sono belle queste sono belle cioè a me piacciono poi adesso molte le cazze 12 12 questa è un po' Hitchcock ma questa è quella di Praga me la ricordo sì questa la conosciamo tutti lei è quella che vende di più proprio senza competizione 14 15 ecco questa è americana questa no è Ucraina tra il seno molto americano no io le americane non le tratto 16 17 qua mi hai fatto lo sgranato forse sembra più sgranata sì no è solo un effetto del del non è particolarmente sgranata non so perché è venuta sgranata sul 19 20 la costola così 21 22 23 24 allora faccio finta di intendermi si vede molto l'influsso di David Belmer un pochino si vede ma però è normale se ha derivativi all'inizio no sì sì per carità ma senti tra l'altro si vede fino a un certo punto nel senso che quelle di Belmer sono meglio ma e ci mancherebbe ci mancherebbe allora diciamo questo cosa posso dire di queste foto queste foto diciamo speravo fossero meglio e perché speravo che fossero meglio perché io personalmente ma forse ormai ho un'età forse per quanto non credo onestamente l'età e c'entri molto dico come modo di dire non pagherei un euro per vedere delle foto così perché non sono fotografie che giustificano cioè penso che là fuori cioè i morti di figa dovrebbero essere veramente all'estremo delle forze perché in tutta franchezza queste queste fotografie manca ma lo dico non a te ma lo dico proprio come purpose manca tutto quello che come dire potrebbe scatenare in una qualche maniera per esempio manca un modo di vestire queste ragazze in modo che possano sembrare svestite e in un certo senso però magari poi piacciono tantissimo queste foto e sono contento che tu abbia successo nel fare queste foto però per me sono come dire dentro un pudore che non racconta neanche loro capisci cioè a me non sembra di entrare nel loro mondo mi sembra di entrare nel tuo di mondo e nel tuo di mondo francamente non mi eccita mi ecciterebbe loro magari se il tuo modo fosse un modo di svelarmi qualcosa di loro e del loro della loro come dici tu vulnerabilità eccetera invece qui è un occhio molto maschile diciamo e questo è qualcosa che è sempre esistito e mi rendo conto che oggi un uomo non ha più molto da dire sulla donna in termini di immagine bisognerebbe accettarlo the male gaze oggi è completamente privo di interesse nel mondo dell'iconografia femminile non abbiamo un cazzo più da dire sulla donna è il momento in cui loro hanno da dire su loro stesse o sull'uomo o su quello che vogliono ma noi su questo dobbiamo fare tutto un lavoro di come dire di ricostruzione di un immaginario maschile che veramente in questo momento non può che essere retrogrado ma proprio di default cioè molto interessante cioè quello che dici si inserisce proprio nella tematica sociale che non può essere avulsa cioè le tue foto non vanno né bene né male sono uno sguardo maschile sono fuori tempo massimo che poi possano essere diciamo date in pasto ad altri guardi smaschili che in questo trovano una conferma una consolidamento del loro desiderio sulla donna va bene però da un punto di vista della fotografia della donna aggiungono pochino anzi tolgono perché poi queste ragazze non mi arrivano capito non mi arrivano neanche per quanto sono stronze o simpatiche cioè questo è un problema che c'è sempre stato con il tuo soggetto proviamo a scavallare un attimo queste foto non avercela male con me no 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 io ero prontissimo a di peggio quindi come dire il problema del tuo soggetto è come in quale grado di familiarità riesci a proiettarlo al fuori di qua cioè quanto tu come fotofo ti annulli cioè no e quindi arriva proprio direttamente la persona sia una ragazza svestita o tuo fratello o l'oceo di un'azienda quanto arriva questa persona direttamente a chi guarda senza il filtro di uno sguardo percepibile non è lui sei sempre tu che vedi lui ma sei stato in grado di come all'ultimo farti di lato e quello arriva capito c'era Kubrick che diceva come faccio a capire se un film è un buon film se ci credo o meno eh sì bravo cioè lui dice e perché il cinema è nato perché a un certo punto perché ha avuto successo perché a un certo punto i fratelli Lumière hanno proiettato la prima cosa era un treno che arrivava verso di te e la gente è uscita dal tendone e se non vedo ancora quella roba lì che è il primo clip del primo cinema ancora vuol dire che non è buon cinema allora la questione per esempio perché queste ragazze sono estremamente consce no delle posizioni che loro prendono cioè loro conducono il gioco e tu confezioni il loro gioco dentro una luce diciamo ben 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 confezionata questo sicuramente assolutamente la tecnica la c'è la tecnica c'è però purtroppo oggi la tecnica c'è a prescindere perché una volta potevamo vantarci di avere una tecnica perché la tecnica era artigianato quindi bisognava saperla mettere in pratica invece adesso fare sbagliata una foto cioè io ai miei studenti dico fatemi vedere qualcosa di brutto perché quello di bello l'ho già fatto io probabilmente molto meglio di voi quindi quando io capisco una foto se la capisco vuol dire che è stata già digerita ampiamente eccetera che poi tu ci faccia 800 euro in due giorni un'ora cinque giorni a me mi va benissimo e sono contento per te per le ragazze cioè non c'è nessun problema per questo ma oggi secondo te un uomo come dovrebbe approcciarsi alla fotografia di una donna visto che si interseca un po' anche con è molto difficile perché per esempio adesso vabbè come molti come tutti credo riconosciamo come un grande maestro Newton ricordiamoci che Newton era lo sguardo di un uomo più lo sguardo di una donna che era la moglie cioè lo sguardo di Newton non è uno sguardo prettamente maschile e non solo maschile cioè si sottovaluta spesso ma infatti è per quello che tante donne si eccitano alle foto di Newton forse è per quello perché c'è una componente femminile incredibile cioè la vera Deus ex machina di Newton e Alice Springs tra l'altro fotografa straordinaria secondo me i due insieme fanno uno sguardo che non è maschile e basta è androgino è androgino infatti c'è la famosa meravigliosa foto di Alice Springs a Newton vestito con le scarpe da donna la foto vuol dire tantissimissimo così come c'è l'altrettanto famosa foto di Newton che fotografa la donna nuda nello studio di Vogue e c'è Alice Springs la moglie che la si vede che guarda lui che fotografa la donna nuda no? cioè proprio in un triangolazione di sguardi e di presenza dove veramente viene svelato come Newton faceva le fotografie sì poi stavo pensando queste foto che hai fatto Pucca hanno una funzione di mercato o no perché quelle cioè quando uno fa una foto tipo David Belmer scegli a priori che sarà una foto perché abbiamo conosciuto David LaChapelle perché per motivi vari delle nostre delle nostre cose abbiamo conosciuto David LaChapelle e David LaChapelle si può dire forse io sono ignorante cioè che ha avuto una fase proprio di mercato e una fase invece che ha detto no questa è da qui in poi faccio l'artista si può un po' dire nella sua storytelling cioè che lui è entrato alla Cappella Sistina lui dice ho visto quello lì e ho detto no basta voglio fare le foto d'arte è diventato voglio essere il Raffaello no Raffaello il Michelangelo della fotografia ok e in effetti una differenza c'è e secondo te ecco queste foto come le vedi delle foto o che do te anzi Mario sono foto che tu fai per arte e le faresti diverse se fossero per arte o sono foto da vendere in subscription come bella domanda allora intanto quelle le ho fatte nel corso di tre anni quella foto là quella era il mio terzo shoot quindi c'è tutta una serie di sperimentazione lì in mezzo probabilmente ho sempre avuto l'idea che poi dovevo trovare il modo di venderle però allo stesso tempo volevo trovare però un conto è venderle per far iaculare un uomo credo oppure forse no un conto è venderle perché voglio che diventino mitologiche non so come dire no allora io questa ecco prima parlavamo di ambizione io non ho tutta questa ambizione io sono la mia massima ambizione di poter continuare a fare quello di divertirmi di far divertire le ragazze e di guadagnare abbastanza da poter continuare a farlo mi sembra perfetto però ecco questo perfetto però io quando guardo le fotografie di qualcuno o mi interessano o non mi interessano nel senso che o spostano in una qualche maniera poetica o sotto mille aspetti possono spostare in una qualche maniera il mio sguardo da qualcosa che già conosco in qualcosa che già mi interessa conoscere ed esplorare mi interessa di più oggi come oggi per me come non voglio ripetermi la questione dello sguardo maschile come questo come quello di Belmer come di altri per quanto può essere anche bello e ma avevo citato Newton per dire che Newton adesso è molto invecchiato come fotografia come sguardo persino Newton secondo me perché comunque è più maschile di un Avedon cioè è estremamente più maschile sì è quella donna lì quella cosa lì a parte che per esempio anche nella moda adesso ho visto le ultime sfilate diciamo c'è un è molto è un momento molto difficile sulla su quello che la donna esprime attraverso come si veste come agisce come cammina come si riferisce al mondo e c'è questo struggle di riuscire a catturare questa sua forza e questa in un modo non maschile o maschilista è molto difficile molto difficile è un fatto di empatia proprio cioè di annullarsi cioè di annullare ma tu dici dal lato della donna stessa no dal lato dell'uomo cioè no perché lui stava parlando che a monte c'è un problema proprio nel è doppio perché c'è un tema di inflazionamento di visuale la femminilità è in discussione esatto e quindi viene la femminilità le regole sono cambiate come il come il maschile la immagina e come è stata si è anche lasciata immaginare la donna forse questo esatto però è proprio lo spirito del tempo cioè siamo proprio in questo movimento tellurico ma solo che ha detto lui è la chiave cioè l'incertezza non lo sanno neanche loro perché quella è la cosa bella io ho conosciuto una ragazza che fa la sex worker cioè che che però è femminista sì e che però se esci con lei vuole che paga l'uomo capito certo e dice beh per forza ci sarà qualche anche vantaggio avere la figa e io mi faccio pagare dall'uomo ah però sei femminista sì però se è sex worker è tutto cioè tutto è possibile capisci dal lato nostro l'istinto è vabbè se è una zoccola che vuoi fare la femminista ma col culo degli altri direbbe se vuoi fare un uomo del popolo io non penserei così onestamente no fatto estremizzato cioè l'uomo della strada potrebbe dire però l'uomo della strada ai giorni contati non rappresenta più lo spero non rappresenta il futuro lo spero lo speriamo non sarà domani però ieri sera ho detto alla mia ragazza ho detto lei mi ha fatto vedere un libro perché ci sarà questa mostra di Molly Zanelle al Mudec questa fotografa nera attivista transgender ltbg eccetera e allora c'è questa tematica di come chiamarla cioè perché non puoi chiamarla al femminile ah certo con l'asterisco allora chi per esempio si occupa di fare le guide al Mudec bisogna trovare la giusta maniera di chiamarla allora vedo questo la Greta mi fa vedere questo libro che ha dove è spiegato molto bene tutto adesso come questa questione della E rovesciata l'asterisco tutte le definizioni delle transizioni di genere eccetera eccetera e io vabbè un po' sai lo guardi con interesse però certamente è un po' diverso da quello che per esempio un uomo anche della mia età è stato abituato a vivere per tutta la sua vita però ho detto questa qua dopo i computer è la rivoluzione prossima avventura cioè secondo me questa cosa avrà un impatto sulla società paragonabile a quello che è stata la digitalizzazione cioè non tenerne conto oggi è come me quando io io vedevo da ragazzo vedevo i poster la scuola radioelettera di torino scuola di computer o non so c'erano le schede perforate e pensavo ma chi sono sti sfigati che vanno a fare la scuola di computer quelli lì adesso governano il mondo ma loro cioè perché hanno la mia età e a 66 anni sono ceo dell'IBM cioè penso eh perché di sei iniziato con le schede perforate nel 68 oggi sei dio ma il tema che boh cioè ha un all'uomo anche perché le foto che fa lui sono foto che servono per eccitare gli uomini lo dico anche anche le ragazze di Holy Fans credo che facciano facilmente però questi uomini poverini porca miseria sì sì decisamente cioè no mi domando se l'uomo sia medio che non medio su Holy Fans è terribile questa cosa queste foto scusami ti uso proprio malamente che queste foto possano fare eccitare gli uomini è segno è grave perché in realtà sono le foto di un mondo femminile che esiste solo per loro queste donne non esistono e vogliamo parlare delle foto generate con la intelligenza artificiale ma queste siamo lì perché questo qui non esiste nessuna di queste ragazze è così certamente cioè io infatti mi giravano i coglioni da amati perché magari tu lavori con le quando facevo più foto di moda adesso faccio un po' meno fortunatamente rimanevo male perché magari arrivava questa ragazza tutta tutta allora sai in studio cerchiamo sempre di creare un'atmosfera rilassata piacevole molto gentili con con chiunque la modella toccatori parrucchieri sono avvezzi a come dire creare sempre quella cosa perché devi sempre considerare che questa ragazza che viene dalla Lituania arriva a Milano in uno studio dove tutti si conoscono lei non conosce nessuno insomma devi sempre tener conto di un'accoglienza che tu fai quindi io penso che eravamo piuttosto bravini in questo cioè cercavamo di fare del nostro meglio questa ragazza che poi fa la posetta col vestitino magari è bellissima è molto interessante però fai fatica a tirarla fuori anche perché poi purtroppo devi fare otto foto quel giorno sai non è che puoi sai e poi dopo magari dici ma aspetta come si chiama andiamo a vedere su Instagram e lei balla sui tavoli fa delle cose capito pazzesche e tu pensi è così è così perché questo è il suo lavoro lei pensa che questo il suo lavoro è non essere se stessa e noi purtroppo non possiamo dirle sai una cosa sii te stessa perché questo lo sa anche un bambino che l'unico modo che qualcuno sia se stesso e digli sei te stessa quindi lì ti vedevi questa enorme vitalità perduta non c'è nelle tue foto perché la produzione industriale di fotografie di mode non ti consente di entrare nel merito di una ragazza che un giorno c'è poi domani a Parigi una volta le modelle venne a cena da me Verusca dice ma noi con Avedon sai facevamo le foto poi le sviluppavamo poi le rifacevamo poi erano le tre del mattino le rifacevamo e poi le sviluppavamo e poi le rivedevamo fin tanto che non era perfetta capito poi dice ah è la foto di Avedon ah da te credo ci hanno lavorato non è che venne così perché sai a lui gli vengono a noi invece siamo dei babbi non ci vengono cazzo ah non c'è come lavorare capito e tornando a Kubrick che faceva 25 volte la stessa take capito poi dopo io 25 fino a 80 volte poi dopo io penso caspita per esempio anche Helmut facciamo un film ogni 7 anni tutti dicono che lui era estremamente lungo e noioso nella posa poi le sue donne hanno pose che tu non hai mai visto cioè di una naturalezza nello stesso tempo di una diversità di una eccentricità sensuale che tu hai mai visto ah ti credo cioè quelle svenivano piangevano cioè lui non lavorava sulla naturalezza lavorava sul controllo totale del muscolo capito io avevo parlato con una sua modella lei aveva detto che lui l'aveva messa in posa lei poteva muovere solo gli occhi sì sì cioè lui aveva un'idea di controllo totale il cappello è quello poi dopo tu la vedi ma infatti io dico sempre quando vedi una modella che sembra che non sta facendo niente guarda da una parte ecco lì hanno sudato perché cioè lì hanno sudato veramente è paradosso per ottenere il massimo della naturalezza devi utilizzare il massimo del travaglio del travaglio capito ma oggi sui social quel tipo di fotografia funzionerebbe cioè lo dico per i tanti ascoltatori che vorrebbero fare gli influencer come dovrebbero fotografarsi per spaccare sui social secondo te ah non ne ho la più pallida idea e ne sono felice ma lo dico proprio letteralmente sono felice di non saperlo se lo sapessi torno a dire vorrebbe dire che sarebbe qualcosa di già visto e che probabilmente io ho fatto già comunque meglio e quindi non sarebbe così interessante io vedo delle cose interessanti vedo le cose interessanti ma vedo anche come purtroppo quanto fragili siano le cose interessanti oggi in che senso perché sono fagocitate dal mainstream immediatamente perché è molto difficile mantenere la propria poetica al di fuori di un come dire del business no? che ha le sue regole ha il suo diventa presto confezione non c'è niente di male va bene anche questo però sicuramente oggi arrivavo in macchina con il mio socio Enrico che saluto che è qua sopra che sta lavorando durante questa puntata di oggi finalmente qualcuno che lavora esatto perché come qua chiacchierate è una bella metafora questa noi qua a pontificare se lui finalmente porta a casa i soldi e parlavamo vabbè sono discorsi che facciamo tutti però senza fare i nomi tanto sapete benissimo di chi parliamo di questi mega giganteschi influencer che a tutti i livelli quindi quelli super famosi i più famosi fino a quelli wannabe ormai vivono una vita in funzione delle fotografie adesso è venuto anche qualcuno qui a raccontarci dicendo beh sì guarda lui fa questo ma poi quando sta a calcellulare poi è diverso rispetto a come questa cosa come la vedi cioè il sacrificare la propria vita per la fotografia è un interessante beh non è per la fotografia è attraverso la fotografia sono due cose diverse è un patto con a volte con il demonio è un business cioè è un gran business però credo devi esserci portato perché indubbiamente condiziona penso enormemente anche la tua vita voglio dire perché ovviamente sembra che la tua vita sia messa continuamente in scena dico sembra perché poi anche lì cioè come dire io anche io lavoro dieci ore al giorno se facessi l'influencer ha voglia le foto che potrei fare di me col pigiamino firmando cioè perché no invece anzi faccio peggio devo rispondere a delle mail fare dei preventivi che non succederanno mai cioè in fondo è semplicemente un lavoro come un altro con tempistiche sì io effettivamente mi rendo conto alcuni li conosco e ho grandissimo rispetto e penso come fa cioè perché la sera deve andare là di giorno va là per quanto siano tutte situazioni di nel caso di questa influenza di lusso così però sai bisogna andarci poi mettere lì la foto scrivere sotto cioè insomma interessante perché quello che stai dicendo tu dai ai lavori che conosco bene anch'io che conosci bene tu è la condizione di vita più desiderabile attualmente per tutti non tutti però per la maggior non è anche per la maggior parte però per molti giovani ho conosciuto anche una ragazza che è indecisa se fare l'avvocato o l'influencer cioè incredibile a me quando vengono e sono indecisi fare l'avvocato o il fotografo dico per carità di dio fai l'avvocato non ci pensai neanche due volte poi fai le tue foto ma per carità no perché non so se sono all'ultimo anno non so se laurearmi perché la mia passione è la fotografia esci subito di qua vai laurearti immediatamente poi parliamo di fotografia perché significa intraprendere un viaggio che è quasi impossibile dal quale è quasi impossibile uscirne indenni secondo me è meglio laurearsi come avvocato e poi dopo fare il fotorio perché no perché no piano B in questa fase in questa fase storica sicuramente piano B ma questa cosa non è un po' drammatica nel senso che stiamo perdendo tante professioni cioè per esempio lui faceva foto ridocatore non c'è più bisogno del foto ridocco quasi fotografi non c'è più bisogno del fotografi scrittori tra un po' c'è chat GBT che ti scrive gli articoli non c'è più bisogno di scrittori boh ci piace questo è giusto boh non so succede succede si forse semplicemente sta succedendo però sì d'altra parte è giusto che noi ce lo chiediamo come perché tutti noi qui ci alziamo poi dobbiamo pagare semplicemente delle bollette dei mutui delle cose ed è normale però in termini diciamo della razza umana questo è rilevante cioè nel senso in effetti non salviamo vite umane poi comunque si creano mestieri nuovi quindi c'è chi però ha capito c'è sicuramente c'è di peggio a livello di trauma che vive in centrale perché è stato mollato dall'amore che ne so sai le storie del mondo sono milioni mi siamo usciato il microfono è il segnale che dobbiamo finire la puntata è il segno di pessimismo cosmico si è parlato dello sguardo maschile non lo so spero di non avere no 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 infatti guarda a me piace questo approccio non voglio fare un finale ottimista voi lo volete un finale ottimista no no ma non è che sia un finale pessimista e l'accettazione è il più grande ottimismo di oggi dimmi solo una cosa posso essere il David Belmer dei poveri? mi basta questo un mio carissimo amico mi ha sempre detto io preferisco essere osannato dal cliente di provincia che è mandato a fanculo da Armani e io ho sempre pensato no io preferisco essere mandato a fanculo da Armani grazie Tori ti sei divertito ti è piaciuto? si molto mi è stato molto piacevole poi il tempo è volato è volato due ore abbiamo fatto fantastico volendo potremmo andare avanti ma ci diamo il limite così tanto sei qua quando stavo dicendo una stronzata e quando qualche ospite ci tira un pacco ti citofoniamo io vengo perché tu tanto non c'hai un cazzo da fare ma no logico grazie grazie di cuore grazie a voi ragazzi è stato davvero piacevole grazie complimenti davvero per tutto anche per le cose che hai detto sono molto profonde è una di quelle puntate che mi rivedrò perché sono molto dense c'è roba da cogliere sono molto dense le cose che hai detto e io mi ero preparato che su Instagram avevi scritto David Torim Tony Torimbert blasta il mio profilo il mio portfolio con il link al video ero pronto ed è stato fatto vedi perché quello che pensi si materializza come dicono i pensiero positivo tu hai fatto il mio post grazie ciao a tutti grazie mille ciao questo è il Bazzar Atomico ciao ciao grazie a tutti